Gentilissimi, ben trovati a un nuovo incontro con la panoramica ai mercati. Luci e ombre sulle borse europee, ma tutto sommato la seduta è stata favorevole. Sullo scenario il bollettino della BCE è ottimista per il secondo semestre, salvo nuove restrizioni che potrebbero essere adottate per la diffusione da variante Delta. Nulla di nuovo per ciò che riguarda i tassi che rimarranno invariati almeno fino al recupero di un'inflazione durevole, queste le parole di Christine Lagarde. Il Fuzimib dopo una fase cauta registrata in mattinata risale nel pomeriggio avvicinandosi ai 25.700, nuovo record di massimo storico. Il progresso finale è del più 0,69%. Crescita progressiva, quella registrata a Francoforte con il DAX che limita il rialto a qualche decimo di punto. Negli USA intanto il dato sulle richieste di disoccupazione a luglio sono sopra le stime. Tuttavia gli indici di New York si avviano con la prevalenza di acquisti a circa tre ore dopo l'avvio. Dow Jones e Nasdaq hanno superato il mezzo punto di progresso. Tornando a Milano, Ferrari che veniva da due sedute negative, compie un balzo che riavvicina il titolo ai massimi del 2021 fatti registrare proprio lunedì scorso. Unicredit beneficia del passo avanti sulla possibile acquisizione nei confronti di Monte dei Paschi dopo l'audizione di ieri del ministro Franco. Banca generale invece è premiata dal dato sulla raccolta netta di luglio. Inuit finisce per guadagnare l'1,32%, a breve distanza troviamo anche poste italiane all'indomani della semestrale. Il passivo più rilevante invece è quello di Nexi. La società ha annunciato un'operazione che prevede un'espansione in Grecia. Gli altri titoli negativi a partire da A2A non toccano il punto percentuale. Pirelli presenterà i propri conti a mercati chiusi, ma nel frattempo sono arrivate le vendite. Ancora più trascurabili i cali di Tenaris, nonostante una trimestrale positiva così come quelli di Iera. Sul comparto valutario l'euro-dollar oscilla sulla parità rimanendo ancorato a quota 1,1840 con una lievissima variazione positiva. Come vediamo dalla grafica, qui a fianco gli altri incroci Euro-Sterlina ed Euro-Yen stanno viaggiando a diverse velocità e su territori opposti, con variazioni frazionali di qualche decimo di punto. L'ultima nota di oggi è l'intervista a Giacomo Moglie. Ospite di oggi Giacomo Moglie, analista tecnico e con lui daremo uno sguardo ai mercati in questo inizio di agosto. Comunque lascio a te i grafici. Ben trovata Rossana, questa mattina ha sorpreso la forza del manifatturiero tedesco, anche se a ripresa in corso i riflettori restano accesi sull'evoluzione dei dati pandemici. Dati sul mercato del lavoro USA, l'altro diver di quest'ultima parte di settimana, appena deludenti su siti di oggi, vedremo domani i dati del mercato del lavoro. Da un punto di vista tecnico, l'inizio di agosto ha portato qualche assestamento senza in realtà attivare significativi cambi di lettura operativa. Partendo dal domestico Fuzzimib, qui siamo in osservazione del Fuzzimib grafico giornaliero, la nostra segnaletica è abbastanza mista, ovvero rispetto a un'indicazione di debolezza di breve rilevata da lunedì 2 agosto. Questa è la candela di riferimento da 25.100, per cui a questo punto solo sopra i 25.700 punti indice si tornerà in indicazione di breve positiva. Abbiamo, dicevamo, un quadro superiore contrastato in quanto il mensile, cioè la visione strategica sul nostro Fuzzimib, è cauta da inizio di luglio e ritornerebbe in long sopra i massimi del mese scorso, mentre a livello tattico settimanale da venerdì 23 luglio da 25.100 è ritornata una proposta di positività, dunque quindi contrastato, il quadro superiore ma positivo nel breve. Passando agli indici esteri, quindi in ricognizione da prima sul tedesco DAX, qui in grafico giornaliero, bene, qui invece abbiamo una segnaletica trasversamente positiva secondo i nostri modelli, per cui rispetto ad un'indicazione di positività di breve da proteggere a 15.490, anche il segnale tattico settimanale risulta positivo in questo frangente da proteggere a 15.050, così come il segnale strategico sull'indice tedesco. Quindi una maggiore, in questo caso, positività o comunque propensione ad accogliere il ritorno di positività sull'indice tedesco rispetto a quello italiano nel brevissimo. Sul fronte USA rileviamo un raffreddamento solo del segnale di breve, quindi qui il movimento di assestamento di cui si diceva inizio di agosto ha portato solo quella che è una situazione interlocutoria nel quadro di breve, qui siamo nell'osservazione dell'S&P 500 in quadro giornaliero, tale per cui adesso solo sopra 4.430 avremo una nuova indicazione di breve positiva, sotto 4.373 invece indicazione di debolezza e quindi il ripristino dell'aspettativa direzionale di breve passa per la rottura di uno di questi livelli, rispetto ad un quadro superiore, tattico e strategico ancora positivo sull'S&P 500. Interessante infine un ultimo sguardo sul Dow Jones nella misura in cui qui una debolezza, diciamo una neutralità di breve fra 35.200 e 34.7 si unisce un'osservazione della chiusura di domani che ove sotto i 35.060 potrebbe portare una debolezza tattica, ma questo dunque dipende dall'osservazione di domani chiusura di ottava. A te Rossana. Perfetto, ti ringrazio della panoramica con te, ci rivedremo la prossima settimana. A voi. Grazie a Giacomo e Rossana, si chiude così l'appuntamento di oggi, arrivederci, a domani. Grazie a tutti.